Siamo molto contenti anche perché rispetto anche a alcune polemiche che sono arrivate attraverso il vostro canale di un residente della località di Metauriglia, possiamo dire oggi che tutto quello che veniva annunciato non si è verificato, anzi possiamo dire oggi che già in questo momento e già soli alcuni mesi dalla realizzazione del scogliere, già la spiaggia di Metauriglia si è ricostituita con la sabbia. Il vice sindaco e assessore alla difesa della costa, Cristian Fanisi, aveva rilasciato queste dichiarazioni a fine ottobre per esprimere soddisfazione sulle scogliere di Metauriglia al termine dei lavori, un intervento più volte contestato da un gruppo di cittadini che per voce di Michele Tanzi avevano inoltrato più mail e avanzato diverse richieste al comune di Fano. Qui siamo nella borgata del Cavola e quindi di Cavolate ce ne intendiamo e siamo qui a dire che lui ha sostenuto che la spiaggia si era già ricostituita senza mostrare nulla. Io sono qui a mostrarvi i luoghi per dire che dal 27 di ottobre, quando lui ha fatto questa dichiarazione, la situazione non è assolutamente cambiata, nemmeno quella precedente e quindi i fatti dicono che è tutta altra roba. Tanzi contesta anche la larghezza eccessiva tra un setto e l'altro, a dimostrazione dei danni provocati alla spiaggia. Il comitato ha realizzato delle immagini relative alla mareggiata di Pasqua, a quelle che si sono susseguite durante l'estate, fino a quelle di metà settembre dopo l'alluvione. Questi invece sono i video realizzati ieri, un altro duro colpo, ha commentato Tanzi, a dimostrazione dell'effetto di quanto da noi temuto e sempre ignorato dall'assessore Fanesi. La larghezza dei barchi, purtroppo, che è l'unica in questo tratto di 50 metri in 100 metri di opere di protezione che sono lungo la costa, è l'unica che ha i barchi così ampi. Da lì è passato di tutto e di più. Il mare ha raggiunto completamente quello che rimane della zona di parcheggio delle barche e dei pescatori. Oggi almeno il 50% se l'è portata via, c'è solo la barca di Daniele e due barchini, gli altri si sono messi a riparo perché non hanno molta fiducia evidentemente di questa roba, anche perché il mare con l'alta marea arriva lì e si vede. Anche i nostri amici balneari hanno avuto paura e hanno tirato in su tutta la sabbia, li vedete anche nella zona dei stabilimenti, perché non hanno evidentemente fiducia che la situazione possa essere detta tranquilla e tutta a posto. Non è così. Problemi che riguarderanno anche gli ombrelloni? Allora io temo di sì, cioè della serie. Qui la spiaggia che era esattamente corrispondente a quella della zona attrezzata è ridotta a questi pochi metri. Se avverrà lo stesso intervento anche nella zona attrezzata, noi ovviamente fate presto, fate presto, purtroppo potrà succedere la stessa roba che è successa qui e temo che riusciranno forse a mettere una fila di ombrelloni e basta, se riescono. Ed è un problema grosso per loro. Infine Tanzi si è rivolto al primo cittadino Massimo Seri. Quando mi avete dato la possibilità di parlare nello scorso mese di agosto, io avevo invitato il signor sindaco a manifestare il suo pensiero in seguito a questa triste vicenda che ha visto me e il comitato preso in giro dalla pubblica amministrazione, dalla sua amministrazione. Gli ho inviato una mail dettagliata al 2 di settembre, oggi sono passati più di due mesi e chiedo al signor sindaco di dare ascolto e risposta ai cittadini. Volevo sollecitare che lui si ricordasse di questa mia comunicazione del 2 di settembre e se potesse manifestarsi a riguardo non sarebbe male. Grazie mille.